trebimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su trebimeteo.com Previsioni del tempo per giovedì 12 maggio. Sulla Puglia la pressione tornerà ad aumentare grazie all'espansione verso Levante dell'anticiclone mediterraneo. Persisteranno comunque correnti settentrionali che coinvolgeranno l'intero meridione italiano garantendo un clima caldo ma non affoso. Su tutto il territorio pugliese giornata caratterizzata da cieli soleggiati. In Basilicata giornata all'insegna del bel tempo con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi lungo la dorsale. Anche il Molise verrà raggiunto dall'alta pressione che garantirà una giornata caratterizzata dalla presenza di cieli sereni su tutto il territorio. Grazie a tutti.